È normale farsi domande sul futuro, chiedersi come sarà il mercato e cosa servirà per lavorare con successo, ma è importante ricordare che l'orchestra suona oggi. Prepararsi per un futuro indeterminato significa lavorare adesso, prendendo le migliori decisioni possibili sulla base delle informazioni a disposizione. Anche se viviamo in un mondo digitale, esiste un mantra umanistico che attraversa leadership e aziende diviso in quattro punti molto importanti per l'agente immobiliare. Aspetto numero uno, pensiero critico, metti in discussione lo status quo, chiediti, fanno tutti così? La maggioranza pensa in un certo modo? Vivo la cultura dell'immediato che mi impedisce di riflettere sulle cose? Forse è il momento di cambiare. Promuovi il dibattito nel tuo gruppo di lavoro e con i colleghi per confrontare idee diverse. Personalizza il servizio in base alle esigenze dei clienti, evitando di seguire le mode del momento che tendono ad appiattire e a non creare distinzione. Aspetto numero due, creatività. Alimentala facendo crescere la tua cultura generale. Un programma di lettura regolare permette di leggere almeno due libri al mese, arricchendo le tue conoscenze. Questo significa che l'agente immobiliare del futuro, a partire da 12 mesi da oggi, sarà un professionista che avrà letto 24 libri in più rispetto al presente. La creatività nasce anche dalla contaminazione con settori diversi dall'immobiliare. Partecipa a convegni e manifestazioni dove non si parla di case per stimolare nuove idee e soluzioni. Aspetto numero tre, collaborazione. Sii sistemico contro la cultura divisiva del settore immobiliare. Lavora con gli altri e condividi le tue competenze. Aiuta i colleghi in ambiti dove sei più bravo, creando un ambiente di mutuo supporto. Ricorda e leader chi genera altri leader. Aspetto numero quattro, audacia. Assumi rischi calcolati e agisci in modo innovativo. Attira giovani talenti e valorizzali, creando un ambiente dove possano realizzarsi. Categoria degli agenti immobiliari invecchia e un ricambio generazionale richiede davvero un'audacia e un pensiero diverso. Un cantautore avvisava, il futuro è un'ipotesi, forse il prossimo alibi che vuoi, il futuro è una scusa per ripensarci poi. L'eccessiva focalizzazione sul futuro può giustificare l'inerzia e la procrastinazione. È un modo per evitare di decidere, di agire con la speranza o il pretesto che le cose cambieranno più avanti. Il futuro è un luogo dove tutti arriveremo, ma come ci arriveremo dipenderà dalle azioni e dalle decisioni che sapremo prendere oggi. La senti? L'orchestra sta suonando proprio ora.